Ciao a tutti e benvenuti su TokuRobot, canale dedicato all'animazione robotica e fantascientifica giapponese e alle serie televisive giapponesi di stampo Tokusatsu, Super Sentai e Kaiju. Oggi sono qui per parlare di una serie robotica mai arrivata in Italia che merita di essere scoperta. Sto parlando di Saikyo Robot da Yoja, l'ultima opera targata sunrise di stampo Super Robot classico del 1981. Questa recensione è supportata anche dalla collaborazione con il sito Bibiomeca, curato dal mio amico Andrea, che vi consiglio di visitare seguendo i link in descrizione a questo video. Molte delle informazioni infatti le potete trovare lì, quindi vi consiglio di seguire il suo sito e di iscrivervi alla sua pagina Facebook e Instagram, in quanto a breve usciranno altre collaborazioni con lui. In aggiunta, a supportare questa recensione, ho voluto utilizzare alcuni volumi e artbook della mia collezione che parlano appunto del Super Robot in questione. Parliamo quindi di Daioja, una serie che non è mai riuscita ad arrivare sulle televisioni in Italia, sebbene qualche giocattolo all'epoca sia riuscito a raggiungere il nostro paese. Si vocifera infatti, ma la fonte non è certa, che la serie dovesse essere acquisita dalla Vid, la stessa di Gundam, Gundam per intenderci, ma per qualche problema, o forse perché il mercato ormai all'epoca era saturo, la serie non fu acquisita. Questa fonte comunque, ripeto, non è confermata del tutto, infatti ci sono troppe indiscrezioni a riguardo. Consiglio comunque di prendere il tutto molto con le pinze, anche se il giocattolo di Daioja arrivò in Italia negli anni Ottanta tramite l'accepirate con il nome di Daioja. Saikyo Robot Daioja, tradotto come Daioja il fortissimo robot, è una serie di 50 episodi andata in onda in Giappone dal 31 gennaio 1981 al 30 gennaio del 1982, prodotta dallo studio Sunrise sotto lo pseudonimo di Hajime Yatate, con il character design di Nobuyoshi Sasakado e il mecha design del grande Kunio Okawara. In breve, la trama. Il lontano regno di Edon è un pianeta che fa capo ad un regno galattico composto da ben 51 pianeti che costituiscono la cosiddetta alleanza stellare. Ereda al trono di Edon è il principe sedicenne Edward Mito. Il carattere esuberante e avventuroso del giovane principe porta il ragazzo a lasciare la noiosa vita di corte e intraprendere un viaggio per tutto il regno galattico al fine di valutare coi propri occhi la condizione generale della sua popolazione. Assumendo l'identità segreta di Bo-chan, che è la traduzione di ragazzino in giapponese, il principe Mito viene accompagnato dai suoi fidati collaboratori, Baron Carthus, che assume il pseudonimo di Kaku, Duke Scud, che assume lo pseudonimo di Suke, e Flora Shinobu, un'esperta ragazza ninja. Nel corso del suo viaggio, Mito scopre che i popoli del regno sono spesso vittima di umiliazioni e soprafazioni da parte di ricchi possidienti che sfruttano l'avanzata tecnologia per soggiogare i tepoli. Nel momento in cui la situazione è estremamente critica, il principe decide così di entrare in azione e svegliare la sua vera identità, con stupore dei diversi abitanti. Per contrastare il male, Mito si serve di un super robot, appunto, da Yoja. Nato dall'unione dei Mega del principe, che è a bordo del robot Ace Redder, Shuke a bordo del robot A-Oider, e Kaku a bordo di Cobalter. e il cui simbolo sul petto è la piena dimostrazione del rango del principe. Grazie all'intervento del da Yoja, i pianeta visitati riescono a trovare nuovamente la pace e l'equilibrio. Tra una battaglia e l'altra, inoltre, il principe deve vedersela anche con il suo progettore, Valgen, il quale, insieme al suo maggiordomo Jinnai, insegue Mito, al fine di convincerlo a tornare a casa. Ma la sede di giustizia del giovane e la curiosità sono troppo grandi, e viaggiando in lungo e largo per il regno, Mito si guadagnerà la stima di tutti i suoi sudditi, traendo insegnamento dall'esperienza, acquisendo gradualmente la maturità degna di un vero principe e prendendo coscienza delle difficoltà che comportano la gestione di un regno vasto come quello appunto di Edon. Orgoglio dell'avanzata tecnologia del regno di Edon, Da-Yoja, che significa grande sovrano, nasce dall'unione di tre unità. Abbiamo detto appunto Cobalter, pilotato da Kaku, Ahoider, pilotato da Shuke, e il più importante appunto Ace Redder, pilotato dal principe Edward Mito. L'operazione Cross Triangle può essere eseguita solo dal principe Mito, mentre il richiamo di ogni singolo robot avviene attraverso il comando vocale del suo pilota, che tramite la spada invia gli impulsi ai tre mecha alloggiati all'interno dell'astronave Pouro. L'attivazione di ogni mecha, inoltre, può essere effettuata soltanto dai tre giovani, in quanto la spada stessa funge da chiave di attivazione, incastonandosi sul pannello dell'abitacolo. dotato di propulsori che gli permettono di raggiungere anche un'alta velocità, ossia Mach 10, Daioja ha anche un eccellente arco per i combattimenti ravvicinati con il nemico, e un ottimo sistema difensivo grazie allo scudo incastonato nel petto. Nello scudo è inoltre racchiusa l'arma più potente del robot, la Raimeken, o spada del tuono, capace di sferrare il potente Denko Raimei Kuzushi, tradotto come lampo e tuono distruttore, capace di spezzare in due qualunque nemico. Successivamente il colpo verrà poi ulteriormente potenziato grazie all'utilizzo del triangle beam. La curiosità che sarà subito saltata agli occhi di molti è la somiglianza con altri robot come Daitan 3 per il volto e le spalline del robot, e il principe mito ricorda molto il personaggio di Kento di Daltanius. Questo perché appunto queste opere fanno parte della Sunrise, e come già detto, come abbiamo già visto, comunque il character design della serie di Daioja è curato da Nobuyoshi Sasakado, che è il curatore dei design dei personaggi appunto racchiusi nelle serie di Daltanius, ma anche Zambot 3, Daitan 3, Trader G7, Raidin, Combatler e Voltes 5. In Daioja Sasakado fu non solo character design, ma anche direttore dell'animazione. Il mecha design invece è del celebre Kunio Okawara che possiamo apprezzare in opere come appunto Daitan 3, Trader G7, le varie incarnazioni del celebre Gundam, e serie come Dagram, Votoms, Leizner e Gao Geiger, come già abbiamo visto nel video su Ryusuke Takashi. Qui, in conclusione, vi lascio anche con i prototype design del Daioja prima che assumesse la forma che conosciamo. Eccoli poi. Che dire quindi, se non che consigliarvi di recuperare questa serie, anche se tuttora è inedita in Italia. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito la mia recensione. Se vi è piaciuta, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti. E vi ricordo anche di seguire i link al sito di Bilbiomeca che ha collaborato con me a questa recensione. Un saluto e al prossimo video qui su TokuRobot. Ciao ciao!